Quanto vivono gli insetti? Dipende. Ciao Focussini, oggi parliamo di 5 cose che non sai sugli insetti. Allo stato larvale anche molti anni. Una specie di cicala americana ne impiega 17 per diventare adulta e le regine delle termiti possono superare i 50 anni. Per la maggior parte però la vita è breve. Nel caso delle effimere, 12 ore. Gli insetti volano, saltano e naturalmente camminano. Certi persino sull'acqua. Sono quelli della famiglia dei gerridi, detti insetti pattinatori. Sfruttano la tensione superficiale e grazie ai piccoli peli oleosi delle zampe si appoggiano sulla superficie senza forarla. Per scegliere le vittime, le zanzare si fanno guidare dall'odore. Un certo tipo di grasso della pelle funzionerebbe da richiamo. Dopo la puntura, rilasciano sulla vittima dei feromoni, sostanze odorose che avvertono le colleghe che lì c'è sangue da succhiare. Nonostante l'aspetto innocuo, le coccinelle sono voraci predatori. Un adulto devora fino a 100 afidi al giorno. Per questo gli agricoltori le usano per combattere i parassiti. E se i parassiti non bastano, nessun insetto al sicuro, neppure le altre coccinelle. L'idrosofile, i moscerini della frutta, sono forse gli insetti più studiati nella ricerca biologica e genetica. Nel 1947, dieci anni prima della spedizione della famosa cagnolina laica, una colonia di questi insetti fu inviata nel cosmo. Ehi, ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno due amici. Grazie a tutti.